signori buonasera benvenuti a casa mia benvenuti ancora di nuovo ben ritrovati qua nell'usuale solito e classico disordine della mia libreria allora cari signori questa sera questa sera questa sera questa sera torniamo a parlare un attimo di wunderwaffen torniamo un attimo a parlare del cosiddetto filone luft 46 allora voi lo sapevate che lo stuca doveva avere lo stuca lo juncker 77 stuca doveva avere un successore si avrebbe dovuto avere un successore e perché perché lo stuca dopo i clamorosi successi della prima parte della guerra il clamoroso fiasco in sui cieli d'inghilterra e una diciamo un ritorno di fiamma tra virgolette durante l'operazione barbarossa lo stuca diciamo a cavallo del 42 43 iniziava decisamente a mostrare la corda sul fronte occidentale praticamente era poco più di un bersaglio mobile per gli aerei inglesi americani sul fronte orientale data come dire date le basse quote a cui solitamente si si combatteva un aereo obsoleto come lo stuca poteva ancora funzionare e rudel sappiamo bene che ne sapeva qualcosa di come far funzionare bene uno stuca sul fronte orientale ma questo è un discorso che ci porterebbe fin troppo lontano fu studiato un sostituto che si sarebbe dovuto chiamare junkers 187 il secondo stuca praticamente avrebbe dovuto essere un aereo più aerodinamico con il carrello retrattile sempre con la classica architettura ad ali di gabbiano rovesciate ma con una caratteristica che definire secondo me demenziale è poco allora lo junkers 87 tratto da uno dei numeri numeri di aerei nella storia eccolo qua questo sarebbe lo junkers 87 come vedete si nota bene è un affinamento dello stuca più aerodinamico più filante con il carrello retrattile ma con una sinistra caratteristica guardate bene guardate bene ecco guardate bene questa parte del treviste ecco notate qualche cosa di strano sapete che cosa avrebbe dovuto fare la coda di questo aereo in volo avrebbe dovuto ruotare come si vede dal disegno d'altre viste avrebbe dovuto ruotare di 180 gradi per orientare i piani di coda il timone di direzione piani di coda verso il basso e garantire quindi al mitragliere posteriore campo libero di tiro cioè ruotare in volo la coda di 180 gradi per garantire libertà di tiro al campo delle mitragliatrici posteriori cioè noi italiani in in guerra di bidoni aeronautici ne abbiamo messi in linea dalla banana volante all'ince dal breda 65 fino fino all'sm 84 insomma noi italiani abbiamo una certa esperienza in fatto di bidoni volanti ma oggettivamente siamo sinceri siamo sinceri quella di far ruotare di 180 gradi la coda di un aereo in volo per garantire campo libero al mitragliere posteriore cioè o soltanto o a un deficiente può venire in mente o a un tedesco cioè perché insomma rendetevi anche conto di una cosa che un aereo che viene usato in guerra deve essere efficiente veloce maneggevole portare bombe come nel caso dello stuca ad una certa velocità e sganciarle con una certa precisione e soprattutto essere robusto e affidabile cioè non vi viene in mente che la sola idea di far ruotare la coda di 180 gradi garantiva sicuramente non dei problemi strutturali ma delle autentiche catastrofi in caso di manovre brusche o in caso di come dire concitazione durante durante la battaglia aerea non è che ci vuole molto a capirlo evidentemente gli ingegneri tedeschi si sono fatti prendere la mano per fortuna per fortuna diciamoci la verità il lo junkers 187 arrivò solo al allo stadio come si vede in questa foto arrivò soltanto allo stadio di prototipo incompleto e furono costruiti anche alcuni modellini questo è uno qui per la galleria del vento e come vedete qua eccolo qui il tre viste dello stuca dello junkers 187 avrebbe dovuto essere questo qui ve lo faccio vedere insomma al posto di cercare di garantire un aereo nuovo efficace comparabile e che potessi usare in parte le precedenti linee di montaggio dello stuca i tedeschi si incaponirono con questo assoluto capolavoro di stupidità chiedetevi perché non finirono mai di costruire neanche il primo prototipo c'è da chiederlo e molto probabilmente perché speriamo insomma qualche avviatore avrebbe potuto venirgli come dire un po di giramento di scatole e pensare a sganciargli la bomba sopra casa ma sarebbe chiedere troppo però ripeto lo junkers 187 uno dei più famosi tra virgolette aerei del filone luft 46 ma anche una delle più clamorose castronerie aeronautiche mai pensate ripeto ruotare i piani di coda di 180 gradi ruotare i piani di coda di 180 gradi per garantire per garantire campo libero al mitragliere posteriore io cioè mi viene da ridere anche perché oggettivamente vabbè di figure di merda non abbiamo fatte soltanto noi con aerei improponibili grazie al cielo tutto qua quindi cari signori io come dire scusate il sarcasmo scusate la facile ironia scusate le parolacce ma questa storia dello junkers 187 pensavo che valesse la pena di di raccontarla per far capire veramente quanto potessero essere testoni testardi e soprattutto inconcludenti certi certi ingegneri tedeschi tutto qua quindi cari signori ripeto vi ringrazio per l'attenzione e come sempre arrivederci al mio prossimo video buonasera grazie a tutti grazie a tutti